Aspettate, figlioli cari, vengo anch'io, no? Oh, scusi, scusi, cercavo del commendatore Marchi. Ah, lei cercava di mio fratello? A lei è... permette, piacere, ingegner Sanni. Oh, caroletto. Come fa a sapere il mio nome? Me l'ha detto cosa? Me l'ha detto mio fratello, no? Ah, le ha parlato di me. Sì, altra che qui non si parla che di lei, sa? Ma anche un momento fa, prima che lei arrivasse, stavano parlando di lei. Allora lei sa il perché della mia visita? No. Come? Non mi stava dicendo poco fa che suo fratello... Ah, sì, 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 no, per la verità, mi ha parlato di lei, ma non mi ha detto perché lei viene qui, no? Eppure lei dovrebbe indovinarlo. Io? Perché io? Ma accordo che lei non sa ancora. Forse non sono tenuto a... Mi scusi, ho l'impressione di averla già veduta. Sì? Sì, in palcoscenico, compagnia Seiani, ma non dovevano anzi dare una sua operetta. Oh, sì, porcarità, mi occupo così a tempo perduto che... Non la danno più, non la danno più, non la danno più, non la danno più. Ha saputo della Marta Marlene? Marta Marlene? E chi è? La seconda su Brett, quella biondina magrina. Ah, una biondina magrina che... Aspetti, mi pare di averla vista, non so... Ha lasciato la compagnia e non se ne sa più niente. Oh. Era la mia fidanzata. Se scopro qualcosa io spacco il muso a chiunque. Si calmi, si calmi, qui non scopre niente, si calmi. Certo, certo che no. Caro, caro ingegnere. Commentatore. Mi scusi se l'ho fatta attendere. Prego, parlavo qui con... Una così simpatica conversazione. Tua figlia? È di là. Sto preparandole una sorpresa, vero ingegnere? E magari anche per te. Ma preferisco che tua figlia non sia presente. Anch'io. Caro ingegnere, vuole accomodarsi? Con piacere. Prego, da questa parte. Buongiorno signora. E ognuno, molto niente averla conosciuta, molto niente averla conosciuta. Oh. Oh, mia mamma. Vado. Chi è? Stefan. Che c'è? Che c'è? C'è ancora? Ma dove sono i fidanzati? L'hai lasciati soli? Ma niente, niente, stai tranquilla, non ti preoccupare, sono di là. Non mi piace. Due giovani che si amano. Marta è una fanciulla. Tosti, vieni qua, vieni qua. Dimmi una cosa, guarda. Un momento fa io qui ho incontrato Giuseppe con un ingegnere carletto. Sandy. Sandy. Giuseppe mi ha parlato di una sorpresa per Marta e per me. Sì, sì. Tu sai qualche cosa? Sì, sì. È stata un'idea di Giuseppe. Ah. Giuseppe costruisce una casa. Ah. L'ingegnere Sandy ha fatto il progetto. Ah. E sai a chi sarà intestata? Ah. Sì. A Marta. Ah, a Marta. Sì, temerò peggio. Soltanto, ora tocca a te di fare una cosa. A me? E cosa devo fare? Ma come santo cielo, non capisci. Te l'avrebbe detto anche Giuseppe, ma da te è meglio che tutti ci prepari. Dal momento che la casa sarà intestata a lei, mi pare che sarebbe tuo dovere riconoscerla. La casa. Ma no, che diamine. Tua figlia. Riconoscerla legalmente. Darle il tuo nome. Non ti pare questa una giusta idea? Oh. Giustissimo. Ma come gli vengono certe idee? Ed è per questo che vuol vedere i parenti di vita. Vuole rassicurarli. Eh. Il loro figliuolo non sposerà la figlia di nessuno. Ma sposerà la signorina Marta. Marchi. Ah, ma... E chissà come saranno contenti loro quando lo sapranno. Signora, ci sono quelle signore del comitato pro infanzia abbandonata. Vengo subito, cara. Mi raccomando, non li lasciare troppo soli, eh? No, no. Mamma mia. Ah, siete voi, mi avete fatto una paura. Il carletto. No, 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 non c'è. Ma che voleva? Niente, ha portato a Giuseppe il progetto della tua casa. Della mia casa? Sì, sì, sì. Guarda, adesso questa è una cosa troppo lunga a spiegarti. Per ora ti faci sapere che non sospetta affatto che tu sei qui. Va bene? Meno male. Sì. Ma come lo sai? Le ne hai parlato? No. Le hai parlato voi. È furioso. Mi ha detto che vuole rompere la faccia dell'uomo con cui stai ora. È furioso? Segno che mi vuol bene. È molto carino per me. Sì, ma non è carino per noi. Se quello viene a sapere che lui ti bacia e ti abbraccia, è quello che avrà di spaccargli la faccia. Io me ne vado. Senti, caro, nelle trenta lì dal giorno le legnate non sono compresse, quindi... Eh, ma sei un bel digliacco, no? Aspetta, stai tranquillo. Non sa nulla, non sa che tu sei qui, no? E comunque, comunque se questo carletto qui bacica per casa la faccenda si complica, io... Ah, è lui! Tu, tu qui! Lei! Lei mi aveva detto che non sapeva niente. Scusi, io non capisco veramente a che cosa lei voglia alludere da me. Ma come? Questa donna con questo signore. Mi vuol dire a chi sono? Secondo lei? Ah, ma sì, niente di più semplice. Sì? Eh, ma... Certo, lei mi permette di presentarle qui, il signor Vito Signore, no? Sì. Sua figlia. Oh, sua figlia. Gianna, il mio eccellente amico, signori, ha avuto la gioia di ritrovare la sua figliola di letta. Scusi, non potevo immaginarlo. Neanche lui, non voglio dire neanche io. Ma lei, come padre, è molto giovane. Ah, no, sembra, no, non sembra, sa, sembra. Ah, lui è vecchio. Ah, lui ti importa, è vecchissimo. Dimmelo tu, cara. Oh, sì, sì, è vero. Non le dimostra, ma li ha, li ha, sì, sì, caro il mio papà, che sembra molto giovane. Caro ingegnere, bravo, ancora... Comendatore, hai presentato. Sì? No, l'ha presentato io, ho fatto le presentazioni, l'ha presentato tutti. Bravissimo. Sì, sì, sì. Ingegnere, se vuoi favorire un momento, mi è venuta un'idea, una modifica. Si, come crede. Bella coppia, eh. Come? Bella famiglia. È una bella famiglia. Prego. Senti, caro, ma mi dici, ma mi dici cosa ti è saltato in testa? Oh, che cosa dovevo dirgli? Che la tua figlia è andata perché ti spaccassi il muso? Ma di mia figlia? Ma perché mia figlia? Non ci parliamo. No, figlielo, caro, parentela per parentela. Un momento, piuttosto, adesso qui c'è un fatto nuovo. L'idea dell'assegna mensile, se tremmo date, del dono di una casa, della tale quattro, per ora, stiamo zitti, è meglio non parlarne perché c'è di mezzo il tuo ingegner Carletto. Ora, figlioli cari, aver fatto tutto questo imbroglio, per niente, aver tanto sudato, a me, prenderebbe veramente, ma cretini, no? Oh, allora, stiamo tranquilli, cerchiamo di ricavarne una bella sommetta e poi, andiamo, ci salvi chi può, d'accordo? Sì, oh, allora, fatto il punto. Se vogliamo spillare ancora Quattini e Giuseppe, figliola, ci devi pensare tu, perché se gli richiedo io, quello mi risponde picche. Lascia fare a me, se si tratta di inventare frottole, non faccio per vantarmi, ma vi batto tutti quanti. Sì, sentite, sentite, io me ne vado, no, lasciatemi andar via, se mia moglie ha telefonato alla scuola di canto, sono rovinato. Se ti metti a fare anche l'ostruzionismo, poi. Ma, oh. Ti accomodi, signora, il commendatore è occupato, vuol parlare intanto con la signora. Con chi? Oh, con la signora. Ma sì, la signora, meglio ancora. Andiamo alla ponte. E che devo annunciare? La signora Margherita Signori. Oh, la signora, signori. Oh, ecco la signora. Ha detto la signora, signora. Sì, signora. Eccola là. Signora, signori, sono contenta di conoscerla. Lei è la signora Marchi? Appunto. Immagino che lei venga per vita. Naturalmente. Come ne sono lieta. Noi li vogliamo già bene come un figliuolo. Ah, lei può essere soddisfatta del suo vito. È una persona proprio come si deve. Sì? Mio marito è qui. Suo marito? Non so se si è già venuto. Ah, forse sarà di là con mio marito. Non vedo. È da molto tempo che il vito viene in casa loro. Da qualche giorno. Ma lei non lo sapeva? No. No, mio marito non mi aveva mai detto niente. Lei capisce dunque la mia meraviglia. Ah, forse suo marito vorrà farle una sorpresa. Ma allora lei non sa neanche perché Vito viene qui. No, non so nulla, nulla. E le assicuro che sono inquieta. Ah, non deve esserlo. Vito venendo qui fa il suo dovere di gentiluomo. E lei e il suo marito devono essere contenti. Non capisco. Ma allora Vito non le ha spiegato che... Piccolo cagliottiere. Ho sicuro che lei avrebbe il diritto di essere un po' incolle. Senta, signora. Io non mi vorrei sbagliare, ma se il suo marito non le ha detto. Se Vito non ha creduto bene di confessarle. Io non posso prendermi la responsabilità. Io vado a chiamare mio marito. Crederà a lui di spiegarle tutto. Con permesso, signora. Comunque mi creda, signora. Quella povera figliuola non ne ha nessuna colpa. E non deve soffrirne. Mi scusi. Quella povera figliuola. Scusi. Scusi, signora. Non sapevo che ci fosse gente qua. Lei mi permette che mi presenti? Stefano Marchi. Lei è il comandatore Marchi, eh? Ah no? No, 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 no. Che è il mio fratello. Io sono la signora signori. Eh? La signora signori. 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 La signora signora. Appunto. La signora signora. Oh, la signora signori. Oh, ma, vedi un po'. Sono un buon amico di suo marito. Ah, lei è un amico di Vito. E allora mi dirà perché mio marito viene in questa casa da qualche giorno a questa parte mentre a me racconta di essere alla scuola di canto o alla casa editrice. Sì, signora. Non ho nessuna difficoltà a dirglielo. Oh, ma guarda un po'. La signora signori. Ma com'è? Lei non sapeva... Oh. No, 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 no. Io non so niente, niente. Ne parlavo anche poco fa con sua cognata. Lei ha parlato con mia cognata? Sì, sì. Anche sua cognata non ha saputo dirmi niente. Mi ha detto che Vito è un perfetto galantuomo. Che se viene qui viene per compiere il suo dovere. Che io dovrei essere fiera di lui. Ma le ha detto questo? Sì? Perché mi ha mentito. No, no, no. Ma scusi, un momento. Lei le ha detto chi è? Vuole che non gliel'abbia detto. Lei ha detto la signora signori. La signora signori. La signora signori. Che sia sordo. La signora signori. Qui sotto c'è qualcosa di poco chiaro. Si figuri chi l'ascolta, signora. Suo marito non è ancora arrivato, signora. Suo marito. Intanto mio marito la prega di attenderla qui un momento. Briga un affare e sarà subito da lei. Come crede signora? Ora io stavo appunto parlando qui con suo cognato di Vito. Si sono già conosciuti. Tanto meglio. E frattanto mi permette di tornare di là. Stiamo tenendo una donanza per il comitato pro-infanzia abbandonata. E non posso mancare perché sono la presidente. Prego signora faccia pure. Con permesso. Mi raccomando. Si gentile con la futura suocera di tua figlia. Futura suocera? Non è la mamma di Vito? Eh? Scusi. Accidenti. Dunque. Ma mi vuol dire almeno lei le ragioni di questi, chiamiamoli così, strani, il sopperfugio di mio marito. Signora. Guardi, mi è sicuro lei si sbaglia. Eh no! No, caro lei. Non mi ho sbaglio. Mio marito è stato pedinato. L'altro ieri. È venuto in questa casa, si è trattenuto un'ora. Mentre a me ha raccontato di essere alla scuola di canto. Perché? Perché? Io non ci capisco nulla. Io non mi muovo di qui finché non avrò saputo. Ci mancherebbe altro. Ebbene. Ebbene, signora. Poiché lei è decisa. Lei è decisa a sapere la verità. Ma io le dirò tutto. Finalmente? Dunque. Lei? Lei crede, quello che non è, che suo marito venga qui per una donna? Non lo nascondo. Sì. Ebbene, signora. È così. Ah! Ebbene, signora, si calmi. Aspetti, signora, a pronunciare in un giudizio che sarebbe temerato. Guardi, signora, guardi. Io le giuro, le assicuro, che se suo marito viene qui, se quel povero uomo è un povero uomo, un santo uomo, le nasconde le sue litri, non è vero? Sì. È semplicemente perché qui, cosa vuole? Ma in questa casa, che è un vero asilo, di ogni benefica virtù. Sì. Dunque, signora, le volevo dire che in questa casa suo marito viene perché lui fa queste mura. E così lui incontra, lui vede. Sì. Sua figlia. Comprendo questo grido. Comprendo questo grido, che è salito alle sue labbra, dal più intimo del suo animo di moglie offesa. Sì, sì, signora. Lo comprendo, signora. Lo comprendo. Guardi, signora. Lo comprendo. E chino il capo. Io chino il capo in un segno di rispetto. Il mio dovere d'amico mi impone di parlare, di fugare con la luce della verità alle ombre di ogni sospetto. Ebbene, sì, signora. Suo marito ha una figlia. Una figlia. Cosa? Una gentile giovinetta, frutto di un suo amore colpevole con una donna, che ora è morta. Signora, è morta per sempre. Egli l'aveva conosciuta. Prima, capisci? Prima di conoscere lei. Lei non ha nulla da rimproverarli. Guardi, signora. Di aveta a me. Cosa vuole? Egli ora, che mai, tentava di riparare, di riparare la colpa che la spensieratezza dell'età giovanile gli aveva fatto commettere. Signora, ma poteva egli rifiutarsi di stringere fra le sue braccia la creatura che portava nelle vene il suo sangue? No. No, signora, no, no. Guardi, signora, no. Non poteva. Non lo poteva. E allora che vuole? Povero uomo, in un slancio, in un generoso slancio, ha stritto al suo cuore quella infelice creatura, quella creatura infelice, gentile, quella creatura che, che, che fiore del fango, fiore del fango, cresciuta nel fango, e si è levata così, senza il sorriso di una madre, senza la gioia di un focolare. È vero, quello che lei mi dice. Signora, ma se io mentisco, caschi un fulmine qui, dove sono ora. No, 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 io non voglio mettere in dubbio le sue parole, ma, ma la cosa è così strana, così impreveduta, ma... Chi mi prova tutto ciò? Signora, la mia parola. La parola di un gentiluomo che non sa dire una bucea. Signor Marchi, dove posso provare Marta? Signore, lei mi chiedeva una prova. E beh, ecco, lei, ingegner Carletto, ingegner... Sandy! Sandy, mi scusa. Lei, ingegner Sandy, poco fa, qui dentro, lei non ha conosciuto il signor Vito, signori? Sì, ecco. Mi dico un po', chi era la fanciulla che lo accompagnava? Sua figlia. Grazie. Grazie. Signora, adesso lei non può più dubbiare. Io... Io sono sconvolta. Ero venuta qui per fare uno scandalo. Non lo faccio, signora, non lo faccio, non lo faccio. Certo che no, ma adesso non so più cosa fare. Se ne vada. Se ne vada, signora, se ne vada. Guardi, vada a casa sua. Se Vito ritorna qui, io glielo mando subito a casa. Glielo mando immediatamente a casa. In una casa dove egli troverà, vero, signora, una bella... una bell'anima che lo perdonerà, è vero, signora? Sì. Sì, forse... forse ragione. Ecco. la mia presenza qui... Eh, certo, capisci, è bene. Insomma, Vito si è preparato a incontrarla. Sì, sì, è giusto, è giusto. Lei è un buon uomo. È un amico. Grazie. Grazie di cuore, signor Marco. Non c'è di che, signora, non c'è di che. Se ne vada. Bene. Se ne vada, signora, vada via, vada via, vada via, signora. Se ne vada. Signor Marco, ma chi è quella signora? La moglie di Simonori, del padre di Marco. Povera donna. Non sapeva niente del ritrovamento, niente. L'ho dovuta preparare io, capisci? Ma ora, lei che è così buono, dirà qualcosa anche a me, eh? Ah, no, guardi. Io non dico più niente a nessuno. In fin dei conti ho diritto anch'io. Sì, sarà benissimo, ma per oggi io ho parlato abbastanza. E va bene. Allora io non me ne vado di qui, fin tanto che non avrò riveduto Marta. Ah, vero, figliuola, ma ne farei possibile che in casa Dante... Ah, no, povera, non te ne vai. Ma non è possibile. E l'ho detto anch'io? Il fin dei conti il tuo padre non sa che sono. Ma questo lo dice lei. Lo sa. No, sì, non lo sa, ma insomma... Senta, sia buono, mi lasci parlare un minuto, poi me ne vado. Sì? Sì, pronto. E me lo promette? Prometta. E mi promette che parla qualsiasi minuto e poi... Allora guardi, io la lascio parlare. Mi metto qui, faccio la guardia, sento che non venga nessuno. Mi raccomando. Dunque, perché non mi hai detto niente? Ma è stata una cosa così improvvisa. Non hai pensato che avrebbe fatto piacere anche a me che tu avessi ritrovato il tuo papà? No, non ci ho pensato. Perché non mi va bene, ecco. Ma no, cosa c'entra? E allora dammi un bacio. Ma no, adesso cosa c'entra? Un bacio. Vergogni. Vergognatevi tutti e due. Le spiegherò. Silenzio! Vito! Signor Vito! 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 Cosa c'è? C'è che... Ah, è fuggito il signorino. Ma chi? L'ingegnere Sandy. E sa cosa stava facendo? Stava baciando Marta. Ah sì? Come? È così che lei ama la tua fidanzata? Ah già, però bisognerebbe vedere. Lei è un cedico! E tu? Non dici niente? Cosa c'entro io? Non sei suo padre! E va bene, appunto dico, non me la piglio io che sono tornata perché ti voglio arrabbiare il dono. Siete degli amorali, mi fate nausea. Ma in quanto a te te richiuderanno la tua camera che restarai fino al nuovo ordine, la mia casa non è divenuto un luogo per appuntamenti galanti e poiché sembra che te lo voglio dimenticare il tuo passato! Ma il passato! Sapete cosa vi dico? Mi avete seccata! Marta! Oh, date al diavolo voi e le vostre parentele! Nipote mia! Ma il nipote, nipote è un corno! Io me ne infischio dello zio, della zia e di tutta la parentela, sapete cosa vi dico? Sbrigatevela fra di voi! Io me ne vado! E dove vuoi andartene, venturata? A casa mia! Da mia madre! Ma tua madre? Ma sei morto! Ma tu è morto! Anche questo è un astrotolo che ha inventato quello lì! Ma grazie a Dio! Mamma è viva! Mamma mia! Mamma mia! Ma città! Sia fermi lei! Io me ne vado! Tanti saluti a tutti! Stefano! Ho sentito cosa ha detto Marta! Non so, mi fare! Da sua madre! Ma mi avevi detto che era morta! Senta, te l'avevo detto perché tu non ti arrabbiassi! Benissimo! Allora non c'è anche una sola cosa da fare! Riparare! Siamo intesi? Riparare! Come? Vorresti che io... Tu sposerai la madre di tua figlia! Signor Marchi! Signor Marchi! Eh? Che è il facchino dell'albergo dove lei stava prima! Ave, fallo venire! Buongiorno signor Marchi! Ah, la trovo bene! Sono proprio contento di vederla! Sì, bravo! Lascia da parti convenevoli! Mi hai portato quello che ti ho telefonato? Sì! È tutto qui! Giacca, pantaloni, capotto e scarpe! E lo do a lei! No! Lo dia a me invece! Lo metto con l'altra sua roba! Di cosa ti mischi tu poi, eh? Io eseguisco gli ordini! Io obbedisco a chi mi paga, caro lei! Non a chi mi porta via i danari! Ho fatto presto? Sì, sei un bel cretino! Come sarebbe? Non mi ha detto di portargli qui tutta la roba! Sì, ma non dovevo mica detto di spifferarlo ai 420! Ma non l'ho detto che a lei! Già, ma c'era presente la cameriera! Adesso se li hai presi lei, eccomi qua! Io sono al punto di venire! Ma chi la capisce è bravo! Come chi la capisce è bravo? Ma non capisci proprio niente! Ma non lo vedi qua come sono vestito? Mio caro fratello mi ha sequestrato tutti gli abiti che avevo a casa! Eh! Capirai che non posso mica andare in giro per Milano in pigiama e pantofole! E lo sai perché mi tiene prigioniero qui in casa sua? Perché? Perché mi rifiuto di dirgli dove abita la madre di Marta! E lei glielo dica! Un corno glielo dico! Prima di tutto non lo so! Puoi anche se lo sapersi più che glielo dico! Vuole che la sposi! La signorina Marta! Disgraziato! No! Sua madre! Scusare Marta sarebbe già un bel disatto! Sposare addirittura sua madre! Poi! Oh! Oh! Oh povero signor Marchi! E tu ti lasci portare via gli abiti da quella strega? Perché non prova a prendere la cameriera con le buone lei che sa tanto fare? Sì! Figurati! Poi c'è la morte con me! E perché? Perché? Eh! Mentre ti dirò! Le ho insegnato a giocare alle carte! E naturalmente ho finito per vincere le cento lire! Signor Marchi! Ma lei non combina che guai! Sì! Sì! Dimmi un po' Sei riuscito a parlare e a vedere Marta? Sì! Sì! Gli ho detto che lei era preoccupatissima! Allora si è commossa e ha detto che sarebbe venuta oggi! Ma meno male! Meno male! Ma cosa spera da Marta lei? Io non lo so! Io non lo so! Ma certo che da qui! Da solo in questo imbroglio! In questo pasticcio nel quale mi sono ficato! Non riesco più a venirne poi! Io so che lei mi possa aiutare! Signor Marchi! Eh? C'è la signora signora! Oh! Per carità! Dile che non ci sono qui! Oramai ho detto che eri in casa! Va bene! Allora dille che adesso vengo di là la ragione! Beh! Io la lascio signor Marchi! Se lei ha bisogno di me sa dove trovarmi! Sì! Arrivederla! Sì! Ciao! Arrivederci! Grazie allo stesso! Prego! Prego! Sono venuto in me! Signora guarda le domando scusa se io la ricevo vestita così ma da... No no! Lasci perdere! Mi dica piuttosto dove posso trovare la figlia di mio marito? La figlia di... Ah! Signora lo domanda a me! Ma per forza caro signore! Sono tre giorni, tre, che io stando ai suoi consigli aspetto in silenzio che Vito mi parli di questa figlia ritrovata! Niente! Niente! Eh beh lo capisco, lo capisco, sa? Lui ha paura delle sue reazioni! No no no! Io voglio vedere e conoscere quella figliola! Ma perché vuol complicare le cose santo gelo signora? No no! Le pare che io, moglie, possa far finta di niente dopo quello che so! Eh beh insomma, in fin dei conti cosa c'è di male? Una figlia più, una figlia meno! Eh? 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 No no no!